Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere e ipnosi, soluzione all'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore che mi scrive dagli Stati Uniti, dal Minnesota se non ricordo male, il quale mi dice dottore, c'ho mia madre che ha una certa età, quasi 90 anni, i medici non gli hanno dato nessuna speranza, cosa pensa, cosa si può fare con l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Io gli ho risposto che l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola può essere una chance, una possibilità concreta, toccabile e se io nel 2008, come sicuramente se mi seguite avete letto e sentito che ho aiutato mio padre da Los Angeles Beverly Hills a più di 11.500 km di distanza su Skype e online con la dottoressa Rina Brunini con l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola da Los Angeles Beverly Hills bene, anche a mio padre dissero che non c'era nulla da fare, che sarebbe rimasto paralizzato per la metà del suo corpo per tutta la sua vita finché sarebbe vissuto come una larva, come un vegetale. Io, conoscendomi, all'epoca ero un ipnotista autodidatta, non mi sono arreso, ho provato ad ipnotizzarlo, non contento, ho scritto in tutto il mondo, in tutte le lingue, un'email ad esperti di ipnosi, vera e professionale con la V maiuscola, di caratura internazionale molto famosi, i quali nel 2008 rispondevano non si può fare nulla, non esiste nessun caso di ictus ed ipnosi a livello mondiale, perché se rifletti anche i famosi, i celebri, sono come le pecorelle, seguono sempre il greggio, seguono sempre il pastore, non raramente trovi uno su milioni che dice, mo stop, mi alzo la mattina e cambio le carte in tavola, tutti seguono il pastore, le pecore, il greggio, dove va vanno anche loro, per cui anche a livello alto, se non c'è nessuno che ha fatto degli esperimenti con l'ipnosi, pensano che non si possa fare nulla, io invece penso, come i miei maestri, il professore dottor Michelangeli Garai, la dottoressa Lina Brunini, che i miracoli della mente, del tuo subcosciente e del mio subcosciente succedono ogni santissimo giorno, per cui se tu hai un caro a cui non hanno dato speranze, giocati l'ultima carta dell'ipnosi di CS vera e professionale con la l'audio MP13S, che può fare per il tuo caro, o per te stesso se sei in grado di intendere e di volere, oppure più audio MP13S, segui le istruzioni della lettera, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un piccolo e meravigliati del potere della tua mente, perché i miracoli della tua stessa mente li realizza il tuo subcosciente, non l'entità XYZ, è da qui che parte il miracolo della nostra mente, se sai come fare, poi non vuoi scaricarti audio MP13S da qualsiasi parte del mondo in cui risiedi, benissimo, vai da un professionista dell'ipnosi, vera e professionale con la V maiuscola della zona del paese in cui abiti e utilizza anche la sua tecnica che magari non ha nulla a che vedere con l'ipnosi di CS, vera e professionale V maiuscola, un metodo di CS unico al mondo e cambia e prova, perché mai direi mai nella vita, anche se qualche pastore ti ha detto non c'è nulla da fare, non è male che vada, ricordati che il tuo caro partirà per l'altra vita senza soffrire, questo è poco ma sicuro. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnosiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e fai share e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, ipnosi di CS, benessere ipnosi di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio e alla prossima amica mia, amica mia, ciao.